Ascolti TV, Zach Ok, Ora Male, Scharelli Garanzia, Ued Stellare. Zach, Caneroe, Rai 1, ottiene ascolti sufficienti per vincere la prima serata. 3 milioni di utenti e il 15. 7% di share. L'ora legale, Canale 5, fatica parecchio e intrattiene soltanto 2. 4 milioni di spettatori, 13, 2%. Chi l'ha visto, Rai 3, si conferma una garanzia. Informando 2, 1 milioni di utenti, 12, 1%. A seguire io vi troverò, Italia 1, e la porta rossa, Rai 2. Di seguito tutti i dati relativi al primo time di mercoledì 25 gennaio 2023. Striscia la notizia di nuovo sotto i 4 milioni. Male Barbara Palombelli, con stasera Italia sotto il 4% nella seconda parte. Uomini e donne stellare. 3 milioni di utenti e il 26. 7% di share. Maria De Filippi, il solito schiaccia sassi. 3 milioni di spettatori, pragmatic, dar vezi tu? 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 16. 18. 19. 19. 20.